Sono stati consegnati ieri mattina la ditta incaricata dal Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento e i lavori per la messa in sicurezza del castello Poggio Diana Ribera. Presenti il presidente e il direttore del Galsicani, rispettivamente Salvatore Sanzeri ed Angelo Palamenghi, il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo e il presidente del consorzio turistico Costa Sicana Paolo Zambuto. Saranno realizzati percorsi naturalistici ed un impianto di illuminazione, un intervento da 400 mila euro che consentirà di rendere fruibile l'opera entro l'anno. E' stato fatto un sopralluogo sulle Geosito che oggi non è raggiungibile in auto a causa dell'interruzione della strada comunale per Poggio Diana franata a causa delle piogge degli anni scorsi per la sistemazione della quale il comune di Ribera è in attesa del decreto di finanziamento da parte della protezione civile regionale. Stamattina siamo qui tutti assieme, ente parco, comune, galle, impresa, tecnici, per dare l'inizio ai lavori della ristrutturazione e della messa in sicurezza del castello di Poggio Diana. E' un importante risultato, sono circa 400 mila euro, è il primo inizio di finanziamento per mettere e far usufruire e fruire di questo bellissimo posto e poterlo dare ai turisti, a tutti quelli che si vogliono cimentare anche nei percorsi naturalistici. Capite e capiamo tutti qual è l'importanza di questo lavoro. Già il castello ha subito dei profondi interventi di messa in sicurezza negli anni passati. Il nostro intervento riguarderà, ovviamente, completerà questi interventi di messa in sicurezza laddove si renderà necessario, verranno creati dei percorsi per rendere fruibile il castello, un impianto di illuminazione architetturale per valorizzare anche la struttura e quindi continuare, come dicevo prima, per seguire gli obiettivi del parco che sono proprio quelli della salvaguardia, ma anche valorizzare l'immobile e renderlo fruibile ai turisti. Oggi si segna un passaggio fondamentale. Questo è un esempio di come l'approccio di partenari, dove il pubblico e il privato si siedono attorno ad un tavolo per progettare e per attivare percorsi strategici di sviluppo, può e deve funzionare. La dimostrazione che è nell'arco di un anno e mezzo, da quando si è deciso di stare assieme, da quando abbiamo stipulato l'accordo di partenari, dalla progettazione esecutiva al definitivo finanziamento da parte dell'assessorato delle risorse agricole, oggi siamo qui a dare inizio e attuazione a questo straordinario progetto, siamo alla porta dei sicani. Un sito che verrà messo in sicurezza, aperto alla fruizione dei tanti visitatori che vorranno venire a visitarlo e che ci permetterà anche di illuminare questo maniero medievale in maniera architettonica importante, quindi tale da consentire a chiunque transiterà lungo la statale 115 di alzare lo sguardo e poter vedere il castello di Poggioiana.